Musica Devo dire che guardando questa sala le diapositive che vi mostrerò vi sembreranno lontano nel tempo perché stiamo parlando fondamentalmente di una popolazione anziana. Popolazione anziana che nel 2050, cioè poco più tra 25 anni, vedrà una diffusione delle demenze in proporzione estremamente importante e soprattutto in paesi che oggi sono paesi giovani ma che diventeranno paesi anche loro, vecchi. Questo è com'è in Europa la situazione oggi delle demenze e di come coinvolge il nostro paese inoltre un milione di persone con demenza e con il carico assistenziale che ne deriva. Noi non siamo un paese per giovani, alcuni dati li conosciamo tutti, c'è una grande pressione in questo momento sulla denatalità, ma quel dato il più recente che abbiamo su base Censys, sempre tra poco più di 25 anni, il nostro paese avrà perso 4 milioni e mezzo di residenti e sarà composto da 9.1 milioni di persone con meno di 65 anni, meno 3.7 con meno di 35 anni, un aumento di 4.6 milioni di persone con 65 anni e oltre. Questa è la prospettiva. Bene, in questa prospettiva dobbiamo sapere che molti disturbi cognitivi sono molto diffusi nella popolazione anziana. Questo è un dato che non si legge lì nel 2010, ma in questo studio mostra che la popolazione, oltre 4.700 persone dai 65 ai 84 anni, praticamente uno su due soffriva di un disturbo cognitivo che potrebbe o che evolverà in una progressione ulteriore. Una progressione di cui oggi conosciamo alcuni elementi, alcuni elementi che ne fanno dei fattori di rischio, non solo legati all'età, legati ovviamente alle caratteristiche genetiche della POE, legate al sesso femminile, che sappiamo molto più coinvolto della fascia più alta di età, ma il cognitive impairment è più frequente negli uomini che nelle donne e poi tutta quella serie di fattori che per noi anche come società sono importanti, sempre da sottolineare, che sono quegli stili di vita che vanno ovviamente dall'aspetto metabolici, al fumo, all'obesità, all'ipocusia, alla depressione, all'isolamento, alla bassa attività fisica, tutte condizioni che come clinici non possiamo non tenerne conto. Quindi non sono secondari o le buone parole di accompagnamento. Quanto tempo passa? Il tempo che passa prima della contarsa dei sintomi è molto lungo, perché prima abbiamo disturbi cognitivi soggettivi, si chiamano, con i test invece psicometrici assolutamente normali, ma questo è un passaggio che dura 20 anni, per 20 anni è silenzio. E certo il Covid ha dato una botta, questo è uno studio molto grosso condotto dai colleghi di San Marino, vedete oltre 52 mila casi studiati, e qual è stata la sintomatologia più importante? Il Cognitive Imperman, diciamo che è stato chiamato in diversi modi, Cognitive Fog, ma il tema della cognitività è stato sicuramente quello maggiormente coinvolto, non solo a tre mesi, ma anche a distanza, e di oltre un anno. Cosa c'è? Il professor Biggio ci ha introdotto al tema della colina, e dell'acetilcolina, e intanto dice come i farmaci colinergici introdotti nel declino cognitivo furono i precursori, in questo senso la colina alfoscerato, con una buona efficacia sulle demenze vascolare, nelle demenze non vascolare, e poi questo intervenendo sulla sfera comportamentale. Incominciamo ad avvicinarci in quello che poi, negli anni successivi, abbiamo affrontato come il tema della cold, della hot cognition. Questi sono studi pubblicati nel 2013, ma che riassumono tutti gli studi clinici dell'utilizzo di colina alfoscerato nelle diverse condizioni del decadimento cognitivo, sia nella sua forma vascolare che neodegenerativo come alzame e Parkinson, o come evento ischemico-transitorio. Sono studi questi datati del 1992, ma sono tutti studi condotti con un del trattamento a tre mesi, perché questo è importante, lo rivedremo, condotti a tre mesi, che andavano a valutare la risposta da un punto di vista della cognitività e riscontravano un miglioramento delle funzioni cognitive, una riduzione dei tempi di reazione dopo tre mesi e altri benefici dal punto di vista della cognitività e dell'attenzione. C'è uno studio, sempre del 1992, di muratorio, anche questo, ovviamente sempre parliamo di colina alfoscerato, miglioramento della memoria dopo 90 giorni, ma ci dice un'altra cosa, che questo beneficio viene mantenuto per altri mesi, per altri tre mesi, mantenuta 180 giorni, 90 giorni di follow-up. I dosaggi qui sono sempre stati dosaggi attorno ai 1200 o, come dire, in condizioni di assunzione orale o per fiala. I riassunti sempre degli studi di quegli anni, questo qui sempre della colina alfoscerato nella demenza neodeserativa e vascolare, anche qui. Miglioramento delle funzioni cognitive valutate mediante Medimental e in pazienti con demenza vascolare dopo 90 giorni di trattamento con colina alfoscerato. lo stesso questo sempre per gli studi per i muratori, sempre un miglioramento delle funzioni cognitive, sempre invece valutato con la Sandox Cognitive Assessment. Quindi ci troviamo una opportunità di trattamento importante che possiamo utilizzare proprio sui soggetti anziani che stanno progredendo nella situazione di demenza di Alzheimer. E questo ci dice una cosa importante perché lo studio di Amenta dell'Università di Camerino, questo è uno studio del 2014-2016, cosa ci dice? Uno studio condotto con anziani con malattia di Alzheimer, l'aggiunta di colina alfoscerato, aldonepezil, classico anticolinesterasi, ha portato al rallentamento della progressione del deterioramento cognitivo e in più introduce un concetto. La colina alfoscerato è indicata in trattamento della pseudodepressione negli anziani. Non ci sono studi dedicati alla depressione, ci saranno perché sono in atto in questo momento, ma adesso vediamo quello che abbiamo in mano. Questo è lo studio sempre di Amenta, ovviamente con l'associazione della colina alfoscerato con donopezile e con un miglioramento netto dell'associazione rispetto al solo donopezile, il miglioramento delle attività basilari e strumentali mediante due scale e miglioramento delle funzioni neuropsichiatriche nei pazienti. Ma c'è stato uno studio che è progredito per tre anni e è stato portato avanti, questo è uno studio di tre ini, hanno confermato il significativo beneficio terapeutico nei pazienti trattati con l'associazione tra donopezile e colina alfoscerato rispetto a solo donopezile più placebo. Un vantaggio è diventato evidente dopo due anni di utilizzo, il tema che viene portato dagli autori dice due anni di trattamento potrebbe essere il tempo necessario per vedere l'attività della colina in pazienti con Alzheimer. Per chi vuoi vede i pazienti sapete che questi sono momenti molto delicati per la persona e per i familiari. Quindi l'importanza di vedere che vi è una possibilità costruttiva, operativa di dare tempo diventa centrale. ma qui entriamo su un tema anche quello della depressione. Vi dicevo che studi sulla depressione soprattutto quella sottosoglia sono in strada facendos ma noi sappiamo che c'è questa connessione molto forte depressione apatia e mi concentrerò su questo decadimento cognitivo. i dati sulla depressione sono ampiamente conosciuti e ovviamente la sua prevalenza nell'età maggiori della vita è evidente da tempo ma soprattutto sappiamo che colpisce 13 ultra 65 anni su 100 e che il disagio aumenta con l'età raggiungendo il 22% dopo gli 85 anni e che nonostante questo ne abbiamo fatto menzione anche in questi giorni molti pazienti che hanno delle comorbidità cardiologiche metaboliche ma anche di carattere immunologico oncologico non vengono trattati questo peggiorando gli esiti sia di qualità ma anche di quantità di vita sono più colpite le donne questo non ce lo dobbiamo dimenticare così come per la depressione un dato accertato anche nelle donne c'è un aumentato rischio di declino cognitivo più rapido il tema sempre della modulazione ormonale c'è quello di cui è alla base ma quali sono le sintomatologie soprattutto sotto soglia nella popolazione anziana beh in primo luogo sono l'apatia l'apatia è fondamentale lo vedremo quanto pesa l'apatia poi ci sono una serie di sintomi sono le cosiddette lamentele dall'oppressione al petto dalla difficoltà respiratoria dalle vertigini dal malessere quella serie di vita difficile che viene comunicata e nel contempo però la comparsa progressiva di disturbi della cognitività e qui quello che sapevamo tutti le persone con un alto bagaglio culturale riescono a meglio tamuffare e quelli che hanno invece una carenza anche distruttiva fanno più fatica a non mostrare le loro difficoltà cognitive perché è importante l'apatia l'apatia c'è nei formi di depressione sia nei giovani ma soprattutto negli anziani ed è un rapporto che è tre volte di più negli anziani rispetto che i giovani ma ancora altro questi qui sono pazienti seguiti per nove anni la metà all'inizio mostrava apatia la presenza di disturbi in questo senso depressivi sotto soglia faceva sì che chi presentava questi disturbi aveva un decadimento cognitivo una devenza dopo tre anni rispetto a chi non mostrava apatia che era oltre cinque anni fa la differenza e fa una differenza importante anche ovviamente nell'aumento notevole di transizione verso la demenza questo è un tema che non possiamo non sottolineare e fondamentalmente ci dice che l'apatia è anche un fattore di rischio di demenza anche cognitivamente integro questo è uno studio su 3500 persone con più di 70 anni seguiti per sette anni l'apatia più che la depressione è un fattore di rischio di sviluppo di demenza con un aumento di più del 20% rispetto agli anziani non apatici in questa corte dice gli anziani affetti dall'apatia in termini di declino cognitivo ma anche di mortalità non rischio doppio cioè quindi ci stiamo concentrando su un sintomo nucleare importante perché come dire ha delle conseguenze fortemente negative ha delle conseguenze vediamo come in questo studio che però possono essere diciamo attenuate dall'utilizzo della colina alfo-escerato questo è uno studio mi spiace che non si vede la parte finale l'apatia è un sintomo abbastanza grave e predittivo di una cattiva prognosi non sempre abbiamo visto ieri gli antidepressivi svolgono una funzione sulla cognitività così importante la colina alfo-escerato qui dice anche in combinazione con gli inibitori a fosfodisterase riducono la quota apatica questo è un altro studio questo qui dice uno studio coreano che dimostra la riduzione dopo 12 settimane di questa latenza della onda P300 e il potenziale d'azione evocata dal dover prendere una decisione il marker della velocità di processazione delle informazioni questo è un esempio di cold cognition fa parte dei segmenti che sono importanti che fanno parte delle funzioni esecutive della programmazione della memoria episodica e qui si dice a sinistra si vede come la latenza P300 si è aumentata nei soggetti con micro impairment a destra il cambiamento della vedete quelle puntine della onda P300 dopo 12 settimane di trattamento con colina alfoscerata anche le nostre linee guida dell'istituto superiore di sanità riportano un dato dell'utilizzo di colina alfoscerata e vedete tra le indicazioni quella che vi ho sottolineato a parte controllo dei sintomi psicocomportamentali l'apatia e le funzioni cognitive misurate con la mini mental test cioè abbiamo delle indicazioni in questo momento rafforzate anche dalle linee guida dell'istituto superiore di sanità conclusione siamo nei tempi frequente nell'anziano depresso è un fattore peggiorativo della funzione cognitiva e facilita la conversione del MSI in a demenza strategie di combinazione di antidepressivi multimodali SNRA e con la colina alfoscerato per il mild cognitive impairment o in combinazione con inibitori della fosforo di stereosi possono ridurre la quota apatica è chiaro che nelle nostre funzioni non dimentichiamo mai anche la spinta a costruire reti sociali il sonno soprattutto e l'attività fisica l'ANSET ha parlato in maniera molto chiara sono sette gli elementi che prevengono la depressione al primo posto sono i disturbi del sonno cioè questo è il dato più importante di prevenzione e poi vengono gli altri sette legati all'attività fisica piuttosto che alle reti sociali conclusione come quando usare colina alfoscerato cicli di terapia di tre mesi e mantenimento dell'efficacia del farmaco nel periodo tra un ciclo e l'altro inizio con somministrazione della terapia intramuscole successivo passaggio alla formulazione orale o direttamente da orale consigliata Nini Biggio ci ha raccontato bene la funzione della citilcolina durante il sonno REM che come ci prepara la sveglia quindi consigliata l'assunzione al mattino nel primo pomeriggio e non nelle orari serali sul riposo notturno e poi abbiamo una buona funzionalità con bassissimi eventi avversi quindi questo ci rende uno strumento in più su un fenomeno in grande crescita con la necessità di trovare delle risposte che comportino un miglioramento della qualità della vita a un livello di eventi avversi assolutamente bassi perché sono spesso pazienti in comorbidità e anche in polifarmacologia e con questo tutti al sole grazie a un livello a un livello a un livello di